La Procura di Agrigento ha trasmesso ai PM di Palermo il fascico d'indagine sul ministro dell'interno Matteo Salvini e sul capo di gabinetto Matteo Piantedosi indagati per il trattamento illegale dei migranti soccorsi della nave 18. A portare gli atti del procedimento che entro 15 giorni la Procura di Palermo dovrà trasmettere al Tribunale dei Ministri con eventuali richieste, anche istruttorie, sarà la Guardia Costiera a cui i PM Agrigentini hanno delegato l'inchiesta. Salvini e Piantedosi sono indagati per sequestro di persona a scopo di coazione, sequestro di persone, omissioni di atti d'ufficio, abuso d'ufficio e arresto illegale. Nel fascicolo trasmesso alla Procura di Palermo, oltre ai verbali con le testimonianze dei funzionari del Fiminale e degli ufficiali della Guardia Costiera sentiti, c'è la memoria dei PM che illustra gli aspetti tecnico-giuridici del caso. Intanto alcuni dei migranti soccorsi della nave 18 e che in Libia sono stati torturati e picchiati con tubi metallici, ora vogliono costruirsi parte civile nel processo contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. Lo riferisce l'europarlamentare Eleonora Forenza che ieri è entrata nell'hotspot di Messina dove sono tuttora presenti, affermano un video su Facebook, 38 dei migranti che erano sulla nave 18.